Buongiorno a tutti buona domenica bella italia pk io sono fata nordica stiamo andando stamattina a fare un video a vecchiano spiaggia è un posto molto bello soprattutto molto aperto da proprio l'idea della spiaggia della spiaggia quella bella e niente a fra pochissimo col nostro video ciao a dopo ciao 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 ecco c'è Marina di vecchiano certamente molto diversa da come è l'estate perché è l'inverno ma l'inverno allora d'accordo ok grazie ciao 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 grazie ciao 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 ciao